Dal 6 al 9 aprile anche Monfalcone verrà toccata da quella che ormai è diventata un po' una sorta di tour itinerante degli espositori del mondo dei fiori e del giardinaggio. Parliamo di Monfalcone e Fiore Fasan, la piazza diventerà un enorme giardino? La piazza diventerà un enorme giardino, non solamente la piazza, come è nostra abitudine ormai fare negli eventi di questo tipo. Noi intendiamo interessare anche non solamente la piazza di Monfalcone, ci interessa molto il rilancio di via Sant'Ambrogio, quindi vi saranno anche degli espositori in via Sant'Ambrogio e anche via Battisti. Chiaramente perché? Perché ovviamente il numero di espositori aumenta anche perché noi abbiamo sempre di più richieste di persone che vogliono venire a partecipare a questi eventi a Monfalcone. Quindi questo è positivo anche perché fa capire che stiamo sulla strada giusta e che quindi stiamo andando nella direzione del rilancio della città. E oltretutto perché chiaramente la gente possa fruire di un parterre di presenze e quindi di offerta ancora maggiore per dare sempre di più un servizio al cittadino. Senti, Gorizia in Fiore ha avuto come bacino l'Interland di Gorizia, Trieste ha avuto come bacino l'area di Capodista, Filosistiana. Monfalcone invece può catturare tutta quella che è l'area del basso, quindi pensiamo a Grado, Ma, Palmanova, alla Tisana. Ecco, quali sono, perché Fasan possa essere contento di Monfalcone di Fiore, quali sono i numeri che si aspettano? Beh, allora diciamo che Fasan parte dal presupposto che è sempre molto esigente, no? Però sa che Monfalcone, non solo Monfalcone ma anche tutto ciò che ci circonda, ha sempre risposto, rifaccio anche per esempio all'idea di quello che è stato il Natale, di quello che è stato anche il Carnevale, ha sempre risposto molto bene agli eventi, soprattutto quando sono organizzati in un certo modo, la gente percepisce questa volontà di riuscire a rilanciare la città e ha sempre risposto in modo magnifico. Conto assolutamente, rispetto, dipende anche dal tempo, ma chiaramente se il tempo ci aiuta, conto in una presenza assoluta anche di un bacino che è fuori Monfalcone e quindi proprio quelli che avevi citato tu. Senti, non è che Monfalcone è in Fiore a questi livelli perché la moglie a casa ti chiedeva di rinnovare le piante? No, noi a piante, a dire la verità, in un appartamento ne abbiamo sia interne che esterne, però insomma siamo limitati anche alla dimensione dell'appartamento. Ci sarà sicuramente occasione per mia moglie, ma per tante donne che parteciperanno, oltre ovviamente anche agli uomini, perché un evento florivivaistico così importante chiaramente ha un interesse non solamente nel senso femminile, ma anche l'uomo è molto attratto, soprattutto dai colori e dall'inizio della primavera siamo sicuri che riusciranno a apportare a ciò che già hanno a casa ulteriori colori e festa nelle loro abitazioni. Senti, visto che altro giardino noi l'abbiamo chiesto, volevo chiederti se hai già invitato Sergio Bozzonello perché lui per le piante, per i giardini va matto, va sempre ogni anno in giro per le fiere a raccattare per fare il giardino nuovo. No, allora sì, chiaramente gli uffici hanno già provveduto all'invito, non sapevo che Bozzonello avesse questa particolare passione per i fiori, mi fa molto piacere, quindi lo avremo qui e quindi avrà l'occasione di poter vedere come Monfalcone si può esprimere anche in questa festa. Senti, quando parliamo di fiori e piante parliamo anche di ambiente, i giovani sono molto, forse sono più vicini i giovani degli anziani, abbiamo visto che questa manifestazione di solito porta dei progetti anche legati alle scuole, per Monfalcone sarà lo stesso? Assolutamente sì, noi in tutti gli eventi che andiamo a fare pensiamo sempre ai giovani, pensiamo sempre alle scuole, con la collaborazione dell'assessore Tubetti che mi è stata molto vicina in questa cosa, abbiamo previsto di fare dei piccoli laboratori dove i bambini con le scolaresche e con i loro insegnanti potranno venire qui, vedere un attimino e partecipare a questi tipi di laboratori e poi se ne andranno anche contenti perché ci sarà un piccolo omaggio per tutti quanti loro, un fiorellino che potranno portare a casa dai loro genitori che quindi poi a loro volta potranno ulteriormente venire ad implementare la nostra festa e in questo modo anche coinvolgere i ragazzi giovani nella primavera, nei fiori e nei colori.